Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di zaini, nel particolare vediamo la differenza tra uno zaino d'alpinismo, uno zaino da trekking e uno zaino da via ferrata. Ne vediamo un po' le principali differenze per capire quando dobbiamo orientarci sul mercato quale comprare, ma iniziamo col video. Iniziamo parlando dagli zaini da trekking, questi sono pensati particolarmente per le giornate che andiamo in montagna a camminare, quindi hanno due funzioni principali. La prima è quella di garantirci un buon stoccaggio di tutto il materiale che dobbiamo portarci dietro, quindi hanno diverse tasche, diverse feature che adesso andiamo a vedere. Il secondo è quello di garantirci un certo comfort, sia in termini di scarico del peso, sia in termini di areazione per non farci sudare tanto. Partendo da quest'ultimo punto, la reazione è garantita naturalmente dallo schienale, quindi troviamo degli schienali, soprattutto sugli traggi fino ai 40 litri, che hanno una bella distanza tra la rete e lo schienale vero e proprio. Questa distanza fa sì che ci possa passare di tanta aria in mezzo e che quindi il sudore possa andare a evaporare e essere portato via. Per quanto riguarda invece lo scarico del peso, questo naturalmente è garantito dalla fascia lombare. Troviamo delle fasce lombari non staccabili, belle grosse, perché comunque così più ci avvolgono bene il fianchi e tutta la vita, più scaricano meglio il peso, fatti in materiali anche loro traspiranti naturalmente, con sulla fascia lombare anche delle tasche, un paio di taschine dove poteranno riporre qualche oggetto. Diciamo che tendenzialmente i zaini da trekking hanno uno schienale staccato dalla schiena per permetterci la traspirabilità e una fascia lombare bella grossa per aiutarci a scaricare il peso. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, beh qui diciamo che i vari produttori si sbizzarriscono con le feature che vanno a inserire. Possiamo trovare tantissime tasche, possiamo trovare delle aperture particolari tipo AU dello zaino per poter prendere gli oggetti in basso, delle aperture laterali con la stessa funzione, troviamo anche delle aperture inferiori tipo quelle per il sacco a pelo per aiutarci a prendere gli oggetti. Quindi veramente ci sono un sacco di feature. Questo perché? Perché comunque quando noi facciamo trekking non passiamo di solito in mezzo a punti molto stretti, quindi abbiamo la possibilità di portare all'esterno tanti oggetti, anche se abbiamo uno zaino più grosso rispetto alle nostre spalle non è un così enorme problema. Diciamo che qua dal punto di vista della parte posteriore davvero ci si può sbizzarrire perché non si hanno grossi limiti quando si fa trekking. La seconda categoria di zaini che analizziamo sono quelli da via ferrata. Questi diciamo che sono una via di mezzo tra uno zaino da trekking e uno zaino d'alpinismo. E già qua capiamo che se vogliamo uno zaino un po' tutto fare, con quale davvero fare dal trekking all'alpinismo, che possa andare bene un po' per tutto, questa categoria è sicuramente la migliore. Per quanto riguarda gli zaini da via ferrata devono garantirci due aspetti. Primo devono essere molto stabili, perché comunque quando facciamo le vie ferrate non dobbiamo avere uno zaino che può sbilanciarci e farci cadere. Secondo devono permetterci di poter passare anche negli spazi più angusti, più stretti. E adesso vediamo come. Per quanto riguarda la prima parte, quindi quella della stabilità, questa è garantita da fascia lombare e schienale. Lo schienale in questo caso è uno schienale che va a diretto contatto con la schiena, quindi sarà molto molto vicino se non proprio attaccato alla nostra schiena. Abbiamo diverse feature poi messe dai produttori per far sì che comunque siano molto traspiranti, perché comunque ci sono vie ferrate in cui magari dobbiamo fare un avvicinamento di trekking da due ore, quindi comunque la traspirabilità anche qua ha il suo perché. Però devono essere molto vicini alla schiena in modo tale che quando noi poi andiamo a fare le vie ferrate il carico non ci sbilancia e non ci faccia cadere. Per quanto riguarda invece la fascia lombare, qua svolge principalmente il compito anche qua di tenere fermo lo zaino. Infatti molte volte troviamo delle fasce lombari piccole, magari non grosse quanto quella di uno zaino stesso di traggio da trekking, ma più piccole, questo proprio perché la fascia lombare ci serve più per tenere a fermo lo zaino. Naturalmente poi comunque svolge anche una funzione di scarico del peso, ma diciamo che non sono più pensate per quello. Per quanto riguarda la forma di questi zaini, di solito questi zaini sono molto stretti e slanciati, il motivo è che devono essere più piccoli delle nostre spalle. Perché? Perché quando noi passiamo attraverso dei passaggi molto molto stretti, questi non devono darci ingombro, quindi come riusciamo a passare con la ragazza alle nostre spalle, passare lo zaino senza che questo possa strusciare sulle pareti. Per quanto riguarda poi le feature nella parte posteriore, diciamo che qua i produttori un pochino più si uniformano perché, come vi dicevo, non possiamo portare all'esterno grossi oggetti. Quindi magari abbiamo poche tasche nella parte esterna, anche le tasche per le borracce molte volte sono chiuse e di solito non troviamo nemmeno numerose tasche dove andare a riporre il nostro materiale. In più, cosa che io vi consiglio di guardare quando dovete prendere uno zaino da via ferrata è che abbia la possibilità di mettere un helmet holder per poter trasportare l'elmetto nella parte esterna. Vi assicuro che può sembrare una stupidata, ma torna a me veramente molto comodo. Passiamo infine alla terza categoria di zaini, quelli da alpinismo. Questi devono garantirci tanta stabilità, ancora più di quelli zaini da via ferrata e soprattutto ancora più possibilità di passare nei passaggi stretti, molto più rispetto a quelli da via ferrata. Questo cosa vuol dire? Che gli schienali sono anche loro attaccati alla schiena, ma ancora più attaccati alla schiena. Per intenderci, sugli schienali da via ferrata c'è ancora un'idea di traspirabilità? In questi casi no, anche perché comunque di solito i zaini d'alpinismo magari li utilizziamo ad alta quota dove non è un problema il calore, anzi molte volte sia più freddo che caldo. Quindi la traspirabilità in questo caso non viene presa così tanto in considerazione. Troviamo, come dicevo, degli schienali che vanno ad appoggiarsi completamente sulla nostra schiena che vanno a seguire molto bene le forme del nostro corpo e delle fasce lombari che scaricano anche loro un pochino il peso però in questo caso vengono fatte proprio che si possono staccare. Si possono staccare perché molte volte quando andiamo a fare alpinismo magari abbiamo diversi chili di materiale sull'imbrago. Avere una fascia lombare che può anche sovrastare all'imbrago è veramente fastidiosa. Per quanto riguarda la parte posteriore, gli zaini d'alpinismo sono sicuramente quelli più scarni. Pensate che in tantissimi non troviamo nemmeno delle tasche esterne dove andare a riporre una borraccia. Questa andrà messa all'interno dello zaino. Perché? Perché quando facciamo alpinismo davvero ci possiamo trovare a dover passare in dei punti veramente super stretti e dove il millimetro conta. Quindi nella parte esterna davvero non troviamo quasi nulla. Zaini molto molto semplici. Soprattutto poi nella parte esterna, visto che di solito gli zaini d'alpinismo sono pensati anche per lo sci alpinismo magari possiamo trovare i daccetti dove andare a riporre degli sci. Questo è molto normale su degli zaini di questo tipo. E inoltre questi qua sono gli zaini anche più resistenti. Molte volte sono fatti con dei nylon 420D o dei nylon ripstop. Quindi comunque dei materiali che garantiscono un'ottima performance sia quando vengono strusciati sia anche in termini di resistenza nel tempo. In generale poi gli zaini d'alpinismo vanno anche un sacco di fisici per poter andare a ridurre il peso. Magari si possono staccare un sacco di fibie. Come dicevamo si possono staccare la fascia lombare. Si possono staccare il cappuccio della parte superiore. Questo per andare a ridurre il peso perché comunque quando siamo ad alta quota e magari l'aria è anche rarefatta anche solo portare un 200 grammi in più beh, può essere una grossa differenza. Detto ciò ragazzi, voi di solito quale zaino acquistate più spesso? Su quale tipologia di zaino vi orientate di più? Mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Nel frattempo vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!